Adesso so che devo trovare il modo di riempire questo enorme buco nero dentro di me. Però sono pulito. Da 14 mesi. Lavoro in comunità. È gratificante aiutare gli altri a guarire. Ho uno sponsor, Spencer. Mi mostra quant'è bella la vita da sobrio. E ho ancora una famiglia. Mia madre è stata straordinaria. Anche mio padre è stato straordinario. Voglio che siano fieri di me. A presto.